Con la quarta distribuzione tornano i buoni spesa destinati alle famiglie pesaresi in difficoltà economica. L'amministrazione comunale ha infatti destinato 400.000 euro per la nuova operazione che consentirà di spendere i voucher in beni di prima necessità entro il prossimo 31 maggio. Ad annunciare l'approvazione per il ripristino della misura a sostegno di cittadini e titolari di attività economiche nel profondo momento di crisi legato al Covid è stato il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, sottolineando che dopo l'ultima iniziativa messa in atto negli scorsi mesi di novembre e dicembre, quella in partenza sarà la quarta distribuzione dei buoni che l'amministrazione ha predisposto in meno di un anno. In caso di numero di domande in esubero sarà data priorità alle famiglie che pagano il canone d'affitto o il mutuo della prima casa e ai nuclei con maggior numero di figli minori. Potranno fare richiesta di accesso ai buoni le famiglie di un componente che hanno percepito nel mese di febbraio 2021 un reddito netto inferiore agli 800 euro, quelle di due componenti che abbiano reddito inferiore a 1.000 euro, di tre o quattro componenti con reddito non superiore a 1.200 euro, oppure i nuclei con cinque o più componenti e un reddito inferiore ai 1.500 euro. Le domande potranno essere presentate dalle ore 9 di mercoledì 24 marzo fino alle ore 13.30 di lunedì 29 tramite la consueta modalità dell'autocertificazione online. Il modulo sarà reperibile sempre dal 24 marzo sul sito del comune di Pesaro, nella sezione servizi online. Una volta accolta la richiesta, le famiglie formate da un componente riceveranno 140 euro, quelle da due 200 euro, quelle con tre componenti riceveranno 260 euro, quelle composte da quattro 320 euro e infine i nuclei con cinque o più persone avranno diritto a 380 euro. Il bonus, che sarà consegnato sotto forma di buono spesa dal valore di 10 euro ciascuno, potrà essere speso in negozi della città per l'acquisto di beni di prima necessità e alimentari. A partire dal 24 marzo sarà attivo il numero telefonico 0721 17 43 66 2 per chiarimenti e supporto alla compilazione online della domanda. Sarà possibile contattare gli operatori dalle 9 alle 13.30 e poi dalle 15 alle 17 nelle giornate di mercoledì 24, giovedì 25 e venerdì 26 marzo, mentre per la giornata di lunedì 29 la reperibilità telefonica è garantita unicamente nella fascia mattutina. I buoni saranno consegnati dai volontari organizzati dai consigli di quartiere e la consegna avverrà direttamente nelle abitazioni dei beneficiari. Le domande dovranno essere presentate dalle 9 di mercoledì 24 fino alle 13.30 di lunedì 29 marzo. Il termine utile per spendere i buoni spesa è previsto invece per il 31 maggio.